Due persone sono state denunciate dalla Polizia Stradale di Salerno perché trovate in possesso di attrezzi da scasso. I due, un trentenne ed un trentaduenna di nazionalità rumena, sono stati fermati sulla carreggiata sud della Due, poco prima dello svincolo di Ponte Cagnano-Faiano. A bordo del loro furgone sono stati trovati una mazza di ferro, una tronchese, un piede di porco, cacciaviti, tenaglie, taglierini e un coltello da cucina. Tutti gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro e i due individui denunciati in stato di libertà per detenzioni di armi e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e di strumenti di effrazione.